Doveva essere una giornata di festa e invece si è trasformata in un giorno orrendo. Era da poco terminata la messa del battesimo della prima bimba di una coppia di cittadini agropolesi quando una donna originaria della Sicilia, incinta alla ventinovesima settimana di gravidanza, ha chiesto di andare in bagno. Tutto è durato pochi minuti e quando è uscita dal bagno sconvolta chi era presente ha capito che qualcosa era successo. La giovane mamma ha partorito il suo bimbo nel batter della parrocchia, probabilmente senza neanche rendersene conto. A fare la tragica scoperta la cognata che era con loro in sagrestia, il parroco Don Bruno Lancuba ha immediatamente avvisato il medico e i carabinieri che sono giunti sul posto. Purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La donna ha partorito il bimbo con tutta la placenta ed il sacco vitellino ancora attaccato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia agropolese agli ordini del capitano Fabio Lagarello che in queste ore attendono i risultati di alcune analisi che potrebbero far capire cosa sia successo realmente. La donna è stata poi portata presso l'istituto clinico mediterraneo agropolese dove è attualmente ricoverata per le cure del caso.